Ciao a tutti, vediamo 5 segnali che indicano che lui ti tradisce. Allora, il primo segnale è un'indifferenza nei tuoi confronti, un allontanamento, un perdere proprio interesse per quello che fai, per quella che è la tua vita. Cioè, diremmo un menefreghismo da questo punto di vista. Il secondo motivo, diciamo, il secondo indizio è che mette in atto dei cambiamenti comportamentali rapidi, cambia rapidamente le sue abitudini. Un po' il tipo di abbigliamento, il profumo, inizia, diciamo, a tenersi ancora più in forma di prima, dieta, palestra, cambia gli orari. Insomma, tutta una serie di cambiamenti che, di fatto, non sono comunque ben giustificati. Tutte le volte che è con te, si annoia, dice di essere stanco, diventa un po' intollerante a quello che dici, è il terzo motivo fondamentalmente. Il quarto motivo è che mantiene comunque il suo cellulare nascosto, cambia spesso password, non te lo lascia a portata di mano, alle volte, diciamo, manda dei messaggi di nascosto, non lo lascia comunque disponibile, insomma, sembra una parte del suo corpo fondamentalmente. E l'ultimo indizio è che ogni tanto trovi dei profumi femminili sulle sue camice, magari dei capelli non suoi, qualche macchia di rossetto, insomma, segnali di questo genere. È ovvio che, diciamo, se ci sono tutti e cinque, le corna sono garantite al 100%. Se ce n'è uno, saltuario, una volta ogni tanto, magari potrebbe essere un, come dire, un qualcos'altro. Certo è che anche uno solo, ripetuto frequentemente, potrebbe essere indicativo. Insomma, devi un po' valutare. Più ce n'è di questi messaggi, di questi segnali, più le probabilità sono alte. Se ci fossero tutti e cinque, sono garantite al 100%. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!